In Mondragone, i carabinieri dell'aliquota radiomobile del locale Comando Compagnia, hanno tratto in arresto, per tentata estorsione, Angelo Guglielmo, 43 e n n e del luogo L'uomo, armato di forbici, ha tentato di costringere un 48enne del posto a corrispondergli una somma di denaro senza giustificato motivo I carabinieri, intervenuti in via Cavour del comune di Mondragone su richiesta della vittima, hanno bloccato e tratto in arresto il Guglielmo, che è stato poi sottoposto agli arresti domiciliari La vittima, sentita al riguardo, ha riferito che anche in passato il Guglielmo aveva più volte, tentato di estorcergli denaro e che a causa del timore per la propria incolumità non aveva mai provveduto a denunciarlo